Benvenuti in Doxa. Doxa è un marchio svizzero di orologi con una lunga e orgogliosa storia che risale al 1889, quando George Ducombeon ha fondato l'azienda in Svizzera. Da allora, Doxa è diventato noto per aver prodotto diversi modelli di orologi da sub, tra cui il celebre Doxa Sub, introdotto per la prima volta nel 1967. Uno dei tratti distintivi dell'orologio Doxa Sub è la sua ghiera girevole unidirezionale, che consente ai subacquei di calcolare il tempo di immersione e la quantità di aria rimanente nel serbatoio. Questo sistema di misurazione del tempo è essenziale per i subacquei che devono tenere traccia della quantità di tempo che trascorrono sott'acqua e gestire le loro riserve di aria in modo sicuro. Inoltre, l'orologio Doxa Sub è stato uno dei primi ad utilizzare l'indicatore di profondità, che misura la profondità dell'immersione. Questo strumento è essenziale per i subacquei che devono monitorare la propria profondità e garantire di rimanere entro i limiti di sicurezza. Oltre ai modelli da sub, Doxa ha prodotto una vasta gamma di orologi, tra cui modelli da polso sportivi e orologi da tasca. I modelli da polso sono stati progettati per le attività sportive e la vita quotidiana, con una forte attenzione alla precisione e alla durata. Gli orologi da tasca, invece, sono stati creati per i collezionisti di orologi e gli amanti del vintage, con un design elegante e raffinato che richiama il fascino dell'epoca. Nel corso degli anni, il marchio Doxa ha collaborato con diversi atleti e squadre sportive, tra cui la Federazione Internazionale di Sci Alpino Fiste e il campione di sci svizzero Bernard Russi. Queste collaborazioni hanno permesso di sviluppare orologi specifici per le esigenze degli atleti e di migliorare continuamente la tecnologia degli orologi Doxa. Oggi, Doxa è ancora attiva nella produzione di orologi da sub e altri modelli di orologi sportivi, continuando a mantenere l'attenzione sulla precisione, la funzionalità e la qualità svizzera. La gamma di orologi da sub Doxa include modelli in diversi colori e stili, tutti progettati per resistere alle condizioni più estreme sott'acqua.